Pioneer è la storia dei CDJ, li conoscete veramente tutti dagli albori ad oggi? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, oggi andiamo a vedere la storia dei CDJ, le differenze e tutto ciò che è stato introdotto nel tempo dai primi CD fino alle funzioni che abbiamo adesso sui multiplayer che vediamo, non chiamiamoli più CDJ. Andiamo a vedere subito! Quanto è cambiato il CDJ nella storia e soprattutto che cosa ha introdotto, che cosa ha cambiato, come ha rivoluzionato il modo di mixare di noi DJ e anche di produttori che adesso utilizzano questi multiplayer, non chiamiamoli più CDJ perché il CD, come avete visto sugli ultimi modelli, è sparito. Ma nei primi c'era e come? Perché c'era solo quello. Volete fare questo viaggio insieme? Siete pronti per vedere tutti ma proprio tutti i modelli di Pioneer CDJ? Andiamo a vedere! Ed eccoci qua! Quante volte avrete visto questa immagine con tutti questi CDJ? A dire la verità, qui non ci sono proprio tutti, 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 ma noi li andremo a scovare. Partendo dal CDJ300, al CDJ500, il 502, il 500S, il 100, il CMX5000RAC, il 1000, il 3000, il DPM55, il CDJ800, il 1000, il DVJ, il CDJ200, altra bomba, CDJ800MK2, il 1000MK3, il DVJ1000, il CDJ400, storia! Il 900, il 2000, il 3000, il 350, l'850, il 2000 Nexus, il 2000 Nexus 2 e il 3000. Sì, lo so, manca qualcosa all'appello. Manca il 900, il 900 Nexus. Andiamoli a vedere tutti nel dettaglio come si è evoluta questa storia. A partire da... PAM! CDJ300! Questo è del 1992, lo danno come 1992. 1992 e, come vedete, funzioni basilari. Ma è il primo lettore, cosa importantissima, che, vabbè, legge i CD, ovviamente lo vedete qua da questo sportellone che è sbatabam quando si apriva. E il master tempo, quindi la potenza di poter strecciare il tempo della traccia senza cambiare la tonalità. E questa è stata veramente una rivoluzione. Molti lo danno per scontato ora, ma con i vinili non c'era questa possibilità. Quindi, quando aumentavi col pitch control, la traccia velocizzava anche la voce del cantato e le melodie, oppure rallentava in senso opposto. Tempo residuo e di scorrimento. Lo so, anche questo fa ridere ora, ma è così. All'epoca erano Lamborghini, anche se aveva mille problemi e nessuno se lo filava, perché eravamo tutti presi dal vinile. E poi costava anche un botto. Il secondo... Eccolo qua, il CDJ500. Lo vedete nelle immagini, molto basilare anche questo, anche un po' grossolano. Track search, cue, play, pausa e qui introduce il loop per la prima volta. Col time mode commutabile, il tempo più 10, meno 10, il master tempo anche qua. Possiamo vederla anche in altre foto. Questi due modelli sono praticamente introvabili adesso. Ed ecco invece il 500 era del 1994, poi c'è stato un miglioramento nel 1996 con il CDJ502, dove implementa le funzioni loop. Andiamolo a vedere, questa è proprio la pagina Pioneer, che gli altri non si trovavano sulla pagina Pioneer. Quindi implementa il loop con in e out in real time cue, loop regolabile in uscita per la prima volta. E poi i classic track search, cue, play, pause, la jog, il time mode con l'auto cue. E le informazioni sulla traccia con il tempo di scorrimento anche qui sulla traccia. Il solito sportellone, shbalabam, e andiamo avanti. Questo è del 1996, andiamo al 1997, dove CDJ500S, praticamente il 502, in scatolato, è reso piccolino e molto più maneggevole. Questo ha iniziato ad attirare molti futuristi dell'epoca. Io ero distratto, ero nell'altra falange, nella falange dei minidisc Sony. Vabbè, in una piccola scatola avevamo tutte le funzioni del 500 che abbiamo visto. Anche questo sportellone e via. Qui si sta parlando dell'anno 1997, ma la vera rivoluzione arriva nel 1998. E qui, state a vedere di chi sto parlando, eccolo qua! Mitico CDJ100S. E qua stiamo parlando del mostro, del Nokia 3310 dei lettori. Questo veramente lo tirava in terra, rimbalzava. E non lo dico per dire una leggenda, è veramente che mi è successo anche a me. Qui si fa la storia. Il nemico numero uno del vinile e dei vinil maniaci. Effetti Jet Zip Wah, introdotti qua i primi effetti sui lettori con la funzione Hold. E tutte le funzioni scatolate molto bene su questo lettore che era un po' un 500 allungato. Lo vedete qua bene nel dettaglio. Con la regolazione del pitch, del master tempo, il time mode, l'auto cue e tutte queste funzioni. Supporti da CD, CD, R, R, V. Quindi molto importante. Non avevamo ancora capito cosa stesse succedendo. Questo ha veramente rivoluzionato la storia. E ha fatto passare gran parte dei DJ dal vinile ai lettori CD. Sì, quindi prime masterizzazioni di massa dal 98 in poi. Molti si sono accolti di questo lettore dopo il 2000, nei primi anni 2000. Però questo c'era già dal 1998. Dopo due anni Pioneer decide di cambiare rotta e tirare sul mercato, a tirar fuori questo rack, questo CMX 5000. Era praticamente la versione rack dei Pioneer CDJ con il BPM Counter, quindi il contatore di BPM. Quindi fate attenzione, questa innovazione è grandissima. Poteva essere staccato, vedete lettori CD sotto e sistema rack. Si poteva metterle in un'altra parte. Ci ho lavorato, non era proprio comodissimo. Poi nel 2001 un altro mito, il CDJ 1000. Anche questo lettore storico per i locali, già con un prezzo improponibile per il mercato, ma con molte innovazioni e rivoluzioni nelle funzioni. Jog grande, modello vinile sensibile al tatto, possibilità di splittare fra modalità jog e vinile commutabile. Loop regolati in e out. Reverse ancora presente, tasto adjust per la regolazione del vinile, quindi si poteva regolare la, e si può ancora, la sensibilità della jog. BPM counter, tempo reset a metà per il pitch control, il tasto release, vinile break per lo spegnimento della traccia, o per lo start, quindi la partenza della traccia. Molti ancora non hanno capito questi due knob. Tasti hot cue, correct mode e schedina di memoria qua sotto. Qui eravamo all'anno 2001, ma nello stesso anno arriva il CMX 3000. Questo è la rivoluzione del CMX 5000, con più funzioni, vedete, nel dettaglio. Qui abbiamo anche il rack hot cue, con tre possibilità di hot cue, il tap, l'auto, il relay play, il BPM sync. Attenzione! E vedete, conta battute, insomma un sacco di funzioni, un pochino più carino, ma sempre difficile da lavorarci in questo modo. Vabbè, difficile per i cdj, e ora per chi arrivava dal vinile era una passeggiata e lo è ancora. Questo in contemporanea, praticamente, con il cdj 1000. L'anno dopo Pioneer non si ferma e tira fuori uno dei miei sogni più ricorrenti dell'epoca, il DMP555. Il primo lettore Pioneer MP3, con una schedina card, qua all'interno. Vedete, possibilità di selezionare cd o la card. display con righe di testo, ma non solo numeri, qua anche il tag delle tracce. Quindi si poteva vedere facilmente tutte le tracce inserite. Il BPM counter, come vedete qua. L'uscita digitale, il tasto scratch per la jog, sincronizzazione con la card interna e il cd. e questo mi fece impazzire perché lo volevo comprare, proprio mentre lo volevo comprare, capitò Gabri Ponte in console da me iniziando la serata con questo lettore che si era portato da casa, aveva appena comprato, letteralmente sbavato, quel giorno lì davanti a Gabri. Volevo rubarglielo, ma non me l'ha lasciato. Equalizzatore diviso fra cd e card. E' veramente una bella macchina, anche se rimase incompresa. Credo che molti di voi non l'abbiano mai vista perché questo veramente non è stato un successo, però era un gran bel lettore. Qui si parlava dell'anno 2002. Sempre nell'anno 2002 vediamo l'uscita del CDJ800. Questi molti di voi lo conoscono perché è stato un lettore molto venduto anche per le versioni successive. Un'ottima jog grande per lo scratch. Inserito il wide sul pitch, il tempo range del pitch non più da 6,10, ma fino al 100%, quindi possibilità di rallentamento e velocità al massimo. Uscita digitale, modalità vinile CDJ, reverse, ricerche dettagliate del frame e della traccia ancora più selettiva e vinyl speed adjust touch release anche qua come vedete con il tasto qui. Nell'anno dopo ci sarà un restyling del CDJ1000MK2, scheda di memoria rimovibile, zoom display a wave e testo, modalità vinile e CDJ, reverse, ricerche dettagliate del frame della traccia, vinyl speed adjust, release start, touch break, li vedete tutti qua. Anche questo un lettore molto venduto e molto ambito. Si trovava spesso nei locali, quelli di rilievo. Qui si parlava dell'anno 2003. Il 2004 segna un'altra apertura per Pioneer nel mondo dei VJ, quindi per quel che riguarda i DVD e tutto il mondo video. Il DVJ-X1 riprende quello del CDJ1000MK2, quindi come vedete molto molto simili, e unisce alla ormai celebre manopola jogue dei CDJ la flessibilità del DVD. Ma ciò che sorprende di più è che ha le stesse funzionalità del CDJ, ma può riprodurre anche i DVD. Questo significa che i DJ erano in grado di lavorare su CDJ e non avevano nessun problema col DVJ. Questo aveva le uscite video. Nel 2005 un altro lettore storico che molti di voi sono sicuro avranno ancora in casa, l'ho avuto anch'io e questo veramente ha segnato un'altra epoca, un altro mito. Se ne trovano tuttora nei locali il primo vero lettore compatto a lavorare con gli mp3 a constant bitrate. Ricordatevi, altrimenti la traccia non andava avanti col search se non era bitrate costante. Un 100 remix in pratica, un restyling e questo ha cambiato la vita nel 2005 a molti, me compreso perché dava la possibilità di creare CD non solo in wave ma in dati. Quindi finalmente in un cd si poteva inserire anche 70, 80, 90, 100 tracce dipende dalla lunghezza e dalla pesantezza della traccia ci stava veramente il mondo dentro ed era possibile gestirlo tramite il folder search la lettura delle tracce sul display alternata alla forma d'onda quindi tempo, forma d'onda e titolo dell'Mp3. L'anno dopo c'è stato un restyling del cdj800 con cdj800 mk2 il ritocco dell'800 con la lettura mp3 in pratica una via di mezzo fra il 1000 ed il 200 con le funzioni mp3 e folder search poi per il resto era uguale alle funzioni dell'800 classico. sempre nel 2006 un altro restyling e qui parliamo del cdj1000 mk3 e per colmare il mercato che lo 200 e l'800 avevano l'Mp3 arriva anche il 1000 con l'Mp3 e questa volta con tutte le funzioni sul lettore grande quindi come vedete il lettore da jog grande lettore storico 1000 mk2 questa volta con l'Mp3 in lettura e con i titoli. nello stesso anno molto prolifica paio nel 2006 arriva sul mercato col dvj1000 quindi un restyling anche quello legge dvd cd mp3 con regolazioni di pitch master video con convertitore pal ntsc quindi migliorato il dvj il lettore dvj con altre funzioni qua sul display questo costosissimo all'epoca e appena l'anno dopo arriva un'altra leggenda il cdj400 a mio parere dopo i 100 i cd più utili funzionali della storia dei mostri assoluti mi è dispiaciuto veramente venderli questi perché sono dei lettori pazzeschi il primo con la chiavetta usb per quel che riguarda Pioneer quindi da qui non niente sarà più come prima la morte ufficiale dei cd un lettore praticamente perfetto mp3 folder quindi si può spaziare su tutte le cartelle mp3 sui cd ma anche all'interno della chiavetta usb commutando da qua la rotellina che forse era un po' l'unico difetto perché non era proprio così fedele dopo un po' perdeva qualche scatto ma io ve l'ho veramente massacrato ci permetteva di cercare le tracce velocemente e il controllo dei doppi effetti commutabili quindi oltre al jet roll e l'ua l'introduzione degli effetti scratch come bubble trans e l'ua scratch qua mp3 tag text mode effetto vinile effetto cdj questo veramente una bomba in più il beat loop con loop divide un effetto molto carino su cdj 400 questo ha veramente scritto la storia e inoltre aveva anche l'uscita digitale due anni di pausa e poi pioneer esce sul mercato col cdj 900 arriva record box con la prima volta e vedete su questo display si può vedere già il display è già più grandicello sarebbe in pratica il precursore del 2000 con lo slip mode già inserito la divisione dei loop in frazioni la usb come sui 400 e la rotella per la ricerca un pochino più grande e il record box link qua iniziamo a ragionare con record box il primo lettore per quel che riguarda pioneer e alla fine arriva lui il 2000 sempre nel 2009 il cdj 2000 molti svengono all'uscita di questo lettore rimarrà lo standard per anni il desiderio di molti dj al pari di avere nel letto belen rodriguez più o meno vabbè io non mi pronuncio su questo il primo con il needle search con il dito possiamo scorrere la traccia la forma d'onda e tutte le varie funzioni come vedete il richiamo degli hot cue la chiavetta usb il display molto grande per l'epoca record box link interazione con i pc mac tramite software la scheda sd qua sulla sinistra e i vari e le varie funzioni degli altri cd e viene introdotto anche il loop cutter qua insieme alle funzioni loop subito dopo versione limitata anche qui svenimenti a palla davanti alle console della white edition del cdj 2000 che non vedevamo nella lista di prima qui cambia solo del colore nel 2010 arriva il pioneer cdj 350 questo lettore compatto uscito per sostituire il 400 che pioneer tra le urla dei dj toglie dal mercato sbagliando sbagliando veramente tira fuori questo lettore un po' bruttino diciamocelo non ha convinto appieno molti come sostituto del cdj 400 fa il suo però la pioneer nonostante le vendite aggiusterà il tiro più avanti come vedremo primo lettore compatto con funzioni record box usb cdj e vinile gestione delle playlist da questo tasto dedicato e i vari tasti vinil mod cdj e tutto simile ai lettori più grandi ma in versione compatta sempre nel 2010 ci saranno altre due sorprese una sarà il cdj 850 1 800 mk3 in pratica con tutte le ultime funzioni collegamenti record box del momento divisione frazione loop a sinistra rotellona stile cdj 2000 un giusto compromesso tra i 2000 e i 350 con una bella jog grande non so se sia ancora in vendita dopo andremo a vedere quali sono i prodotti in vendita ancora su pioneer nello stesso anno arriva il cdj 2000 nexus si signore ha 11 anni questo lettore 10 11 anni cdj 2000 nexus anche questo segna la storia altra bomba l'aggiornamento dei 2000 che già erano forti sul mercato diventeranno così fortissimi funzione slip all'interno 3 hot cue con recol la scheda di memoria il display lcd a 6,1 pollici le chiavette il reverse il needle search la compatibilità con l'iphone ipad android telefoni di tutti scheda sd e collegamento lan dietro quindi una vera bomba che la troviamo attualmente nella maggior parte dei locali troviamo questi 2000 nexus escono nello stesso anno anche i 2000 nexus platinum limited edition come vedete qua anche qui svenimenti a palla davanti a console di mixer e 2000 nexus veramente belli a vedersi con le stesse funzioni del cdj 2000 nexus dopo ci sarà un po' di pausa per vedere un restyling perché per migliorare questo veramente ce n'è voluta nel frattempo painer non molla è presente al primo lettore senza cd l'xdj 1000 touch in alcuni componenti come vedete qua link usb loop mode slip con chiavetta usb record box che dopo diventerà xdj 1000 mk2 più avanti sempre con più funzioni rispetto al precedente ma nel frattempo c'è anche il 900 nexus che non era stato citato dalla foto vista prima con tutte le funzioni record box qua un riassunto del 2000 nexus in pochino più compatto e un pochino meno costoso del 2000 nexus veramente già inarrivabile per molti fino al 2016 dove arriva veramente il cdj 2000 nexus 2 finalmente l'abbellimento del 2000 nexus con poche diciamo poche nuove cose da aggiungere perché il 2000 nexus era veramente completo il display diventa 7 pollici in lcd gli hot q diventano 8 quindi 4 più 4 4 supplementari prime funzioni touch come abbiamo visto già sull'xdj 1000 xdj 1000 k2 se non ancora completo tutto il display slip reverse aggiunto qui funzioni di call delete e memory come sugli altri lettori poco tempo fa avrete visto questo cdj tour 01 questo molti non hanno capito se esiste davvero se era vero o se era un prototipo in realtà è vero costa uno stonfo come diciamo da ste parti con tutte le funzioni del 2000 nexus 2 però con i display separato un prototipo da fiera diciamo così che è stato visto più che altro nelle fiere display a modi laptop staccato diciamoci un nexus 2 con l'appendice esterna doppio display creato per i festival ma io non l'ho mai visto nei festival andando avanti e siamo ai giorni nostri il painer dj xdj 700 se ne parla pochissimo perché è stato oscurato da questi mostri sacri della tecnologia pioneer ma il 700 fa tutto costa parecchio meno e lo metti dappertutto è praticamente come dicevo prima il degno sostituto dei cdj 400 e secondo me questo non è stato capito touchscreen per alcune funzioni e comandi essenziali per la prima volta sezione perform come i sull'xdj 1000 per cambiare da effetti a play e finalmente arriviamo all'ultimo e noto ormai a tutti ci abbiamo fatto un video dedicato con tutte le funzioni attualmente il top gamma 9 pollici di display hd jog wheel più fluida qua all'interno con il display interno performance pad o meglio hot cue 8 sopra la jog forme d'onda accumulate cue tattile molte funzioni touch se non completamente colori sulle forme d'onda il beat jump il key sync per adattare la chiave dei brani questa è storia contemporanea vediamo attualmente quelli che sono in vendita sono in vendita i cdj 3000 i 2000 nexus 2 i 900 nexus gli 8 i 50 i cdj 350 l'xdj 1000 mk2 e l'xdj 700 quindi abbiamo attualmente 6-7 lettori dj in vendita e questa è tutta la storia che abbiamo racchiuso anche con qualcosa di più che avevamo trovato nella nostra foto e vorrei sapere da voi la vostra impressione quali lettori avete avuto quali avete provato quali avreste voluto comprare e quale secondo voi è il meglio facciamo una classifica io adesso stilerò la mia in base a tutti i lettori e poi ditemi la vostra io per quelli che posso avere avuto e aver provato dico che per me al primo posto rimane il cdj 100 ma non perché per le sue funzioni che ovviamente sono limitate rispetto a un 3000 o un 2000 però perché era veramente versatilissimo e resistente al secondo posto metterei 400 subito accanto perché mi hanno fatto innamorare per il discorso dell'mp3 e della chiavetta usb una facilità di trasporto tracce perché per chi veniva dal vinile e si spostava un arsenale di 4 o 5 valigie riusciva a mettere tutto qua dentro o dentro un hard disk un sacco di robe quindi 400 sono veramente innamorato forse pari merito 100 e 400 poi vengono chiaramente gli altri dmp555 perché ci ho sbavato e non l'ho mai avuto e poi via via tutto il resto come i 2000 nexus che hanno veramente cambiato fatemi sapere la vostra nei commenti e poi discuteremo su tutta questa storia di Pioneer bene devo ricordarvi dei corsi per dj corsi dj corsi di produzione musicale dove potete fare tutto con il sottoscritto sia per le lezioni sui corsi dj sia per le lezioni di produzione musicale per le vostre consulenze se avete problemi sull'hardware sul software o su problemi legali riguardanti il dj che suona impulse agibilità sia edj online tutte queste cose qua mi raccomando contattatemi in privato nella sezione contact compilando il form o sulla pagina facebook che troverete all'interno di ogni video di sos4dj solo per coloro che vogliono fare corsi e lezioni private per tutto il resto e per tutti gli altri potete mettere i commenti sui video di sos4dj e qualcuno vi aiuterà in qualche modo oltre alla pagina facebook troverete la pagina instagram e la pagina telegram con tutti i fuori onda gli extra i contenuti gli spoiler che giornalmente io metto la nostra community se vuoi puoi farne parte gratis il canale youtube mi raccomando l'iscrizione cresceremo noi ma crescerete anche voi perché avrete a disposizione un sacco di contenuti gratis attivate la campanella mettete un bel like se pensate che questo video possa esservi d'aiuto a voi e ai vostri amici potete condividerlo sui social inoltre puoi sostenere a sos4dj cliccando il tasto paypal in alto della pagina offrendoci un caffè o una pizza o tutto ciò che vuoi se pensi che questi contenuti gratis per te possono esserti utili e ti stanno facendo crescere ragazzi qui si è fatta la storia cdj per chi li ha utilizzati sfido alcuni di voi che non hanno mai toccato nessuno di questi anche se molti usano il controller o continuano a usare il vinile queste macchine bene o male ci abbiamo messo le mani sopra se non su tutte ma su un buon 70-80% molti di noi soprattutto quelli di una certa età fatemi sapere tutte le vostre esperienze con i Pioneer CDJ ovviamente qua si parla di Pioneer la storia c'è anche Denon c'è anche Erloop ci sono altri Gemini altre marche che ora qua non stiamo a parlare a fare confronti tutto qua sotto nei commenti mi raccomando io vi auguro una buona giornata e da parte di SOS4DJ e Claude ricordate che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiripi non stiamo a parlare